Ciao amici, vivi come viaggi. Ecco i titoli di oggi. A spasso tra le città del nord Europa, con Serena Bernardo a Lubecca. Quando alla fine dell'estate scorsa la nostra truppa ha visitato Hamburgo, la cosa che più ha colpito è stata la gran voglia che tutti sembravano avere di approfittare del sole e del clima favorevole per restare ancora un po' a contatto con l'acqua. Le immagini sono quelle del lago Alster, che offre durante una piacevolissima navigazione scorci assolutamente inaspettati quando si pensa ad una città del profondo nord. Eppure il legame che Hamburgo ha con l'acqua è fortissimo. Circoli velici, piattaforme per prendere il sole, pontili, passeggiate bordo lago e anche qualche spiaggetta dove mettere i piedi nell'acqua. La presenza dell'acqua è una delle caratteristiche anche di Lubecca. A poco più di 30 minuti di treno ad Hamburgo il suo centro storico è circondato da un canale. La maestosa porta di Olstentor funge da ingresso nella zona antica, dove chiese in stile romanico si susseguono, offrendo al loro interno notevoli opere d'arte. Assolutamente imponente il crucifisso in legno conservato nella cattedrale di Lubecca. E, altrettanto impressionante, è la navata centrale di Santa Maria, una chiesa risalente al 1200, la cui altezza è di ben 40 metri. Qualche struttura, distrutta durante la guerra, è stata poi ricostruita, ma fortunatamente la gran parte degli edifici è ancora quella in stile gotico-baltico, tant'è che l'intero centro storico di Lubecca è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Deliziosa anche la Marketplatz e il lungo corridoio a volta che porta alla casa natale di Thomas Mann. Delizioso 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 Delizioso